Per il tuo progetto creativo, scegli Bricks by Milk, l'unico portale che contiene un'ampissima scelta di voci e musiche. 1500 demo italiane e madrelingua straniere registrate dai nostri attori, doppiatori e speaker professionisti. Più di 60 lingue tra cui scegliere e centinaia di tag per affinare la tua ricerca. Stessa voce dalle sfumature diverse. Stessa voce dalle sfumature diverse. Una libreria musicale professionale di altissima qualità, suddivisa già in playlist tematiche in continuo aggiornamento e organizzata con un sistema di filtri per rendere facile la tua ricerca. Se non ti dovesse bastare tutto questo, potrai richiedere una composizione o una registrazione ad hoc grazie al nostro staff di professionisti sempre disponibili per supportarti. Non ti rimane che alzare il volume.